Il lavoro che abbiamo fatto nelle due edizioni precedenti di Educa ci ha consegnato un patrimonio di conoscenze, un patrimonio di sperimentazioni che nel corso dei due anni tra un evento e l'altro sono stati sviluppati e ad un certo punto abbiamo pensato di farne una sintesi attraverso questa pubblicazione che è relativa alla leadership nella scuola. Questo è un tema certamente centrale e in tutto questo processo da una parte ci sono i registi che sono i dirigenti scolastici e dall'altra ci sono i direttori di orchestra che ogni giorno vanno nelle nostre classi. Da questo punto di vista abbiamo sviluppato alcuni ragionamenti, abbiamo avuto contributo di persone estremamente competenti nei diversi settori ma poi abbiamo voluto fare una sintesi. Una sintesi perché? Perché crediamo che ormai ci sia all'interno del mondo della scuola una maturità rispetto a questi temi che ha bisogno però di avere alcuni punti di riferimento. Abbiamo individuato dieci punti di sintesi, una specie di decalogo relativo ai temi della leadership nella scuola e un secondo decalogo relativo a quelli che sono gli elementi che sono costitutivi di questo processo di innovazione tecnologica all'interno della scuola. I punti sono molto semplici ma danno veramente una traccia, un percorso e io mi auguro che questo possa essere utile naturalmente per le persone che già hanno un ruolo all'interno della scuola ma anche per quelle che stanno affrontando il concorso adesso per i dirigenti scolastici. Quindi lo scopo è stato un po' di mettere a disposizione di tutti questa nostra esperienza.